Ormeggio di prua. Ormeggio di prua è il più semplice degli ormeggi. Prima perché la prua è più stretta e infilarla tra due barche è molto più semplice. Poi la barca è facile da condurre in questa condizione. Il timoniere procede piano. Va piano perché vuole arrivare vicino alla banchina e fare un gioco, mettere la prua dentro una passerella. A terra c'è qualcuno che gli indica con le braccia la distanza che rimane tra la barca e la banchina. Tant'è che ralletterà i necessari per arrivare giusto a 20 cm e fermarsi e poi tornare indietro. Però questo giochino, a parte giochino, è servito a dimostrarvi che è facile arrivare di prua in banchina perché è più semplice.